Dalle work experience ai contributi per assunzioni e stabilizzazioni, dai corsi di formazione alla preselezione gratuita del personale agli incentivi per la nascita di nuove aziende. Questi sono solo alcuni degli strumenti messi in campo dal settore lavoro della provincia di Pordenone, illustrati alle imprese dello Spilimberghese nel corso di un incontro pubblico promosso da provincia e comune in Corte Europa, sede del Centro per l'Impiego della Città del Mosaico. La nostra politica, la politica che il Presidente Ciriani ha voluto è quella di essere più vicini possibile al territorio, con il territorio, per il territorio. Noi siamo vicini alle aziende perché vogliamo dare alle aziende le migliori opportunità che i regolamenti regionali, le opportunità provinciali possono offrire. Un'occasione di incontro tra istituzioni ed imprese del Consorzio Industriale e dello Spilimberghese. Gli enti pubblici, il comune in primis e a fianco delle imprese per fare in modo che sia la zona industriale nord, quindi il Consorzio Industriale, sia la zona industriale quella tradizionale, possono trovare le giuste collocazioni e sinergie affinché coloro che si insediano possono avere soddisfazioni e ovviamente possono trovare un luogo idoneo alla loro produzione. Un mix di opportunità a quelle offerte dalla provincia rigorosamente a costo zero. Per tentare di alleviare l'effetto di una crisi che sta mordendo il nostro territorio, colpisce sia le imprese ma anche molti lavoratori, la provincia insieme alla regione ha messo in campo una serie di strumenti, credo piuttosto importanti, che consentono di rendere più fluido il rapporto tra domanda e l'offerta di lavoro. Non sempre c'è una perfetta cognizione di questi strumenti, di come funziona e come si possa attingere da alcuni contributi, che consentono di poter portare intorno alle proprie aziende competenze e di spendere meno rispetto a quanto si spenderebbe rivolgendosi alle agenzie private. Oggi con un pizzico di vanto possiamo dire che i servizi della provincia, cioè i servizi pubblici, hanno la stessa performance e la stessa qualità dei servizi privati. Occorre quindi diffondere queste notizie, informare gli imprenditori, mettere al corrente delle opportunità per spendere meno e dare ovviamente un contributo anche alla gente che in questo momento ha perso lavoro o rischia di perderlo.